L'AMFI festeggia con un catalogo i 25 anni di attività. Per l'occasione l'Associazione Medici Fotografi Italiani e il suo presidente Danilo Susi sono tornati a Termoli dove l'Associazione Nazionale era stata costituita. Con Danilo Susi erano presenti diversi amministratori che nel tempo si sono succeduti in municipio, una serie di scatti che racconta il mondo visto secondo l'ottica dei medici e il cui ricavato è già stato devoluto in beneficenza. Siamo circa una sessantina ormai di medici fotografi in tutta Italia. Il ricavato di questo libro è devoluto alla Lega del Filodoro, un contributo cospicuo è stato dato il mese scorso a Roma quando abbiamo fatto la seduta nazionale all'EMPAM che è il nostro ente di prevenzione e c'erano i rappresentanti del Filodoro al quale sono stati consegnati un assegno di sostegno. Tante sono state le attività portate avanti dal dottor Danilo Susi in città nel corso degli anni con l'Anfi ma anche con il gruppo amatoriale Fotografi che si era costituito per dare seguito alla passione per la fotografia. Mi piace sempre ricordare, la vedremo anche proiettata, una delle attività è che noi siamo stati, abbiamo fatto un corso di fotografie alla Casa Circondaliare di Larino ormai l'anno non lo ricordo di preciso ma doveva essere il 2002-2003. Per esempio quella è stata una cosa molto simpatica in cui siamo riusciti a portare un po' di cultura fotografica perché non è soltanto il fatto della tecnica è proprio far vedere un po' delle inquadrature particolari a queste persone con le quali poi abbiamo fatto anche un piccolo corso di fotografia con gli attestati eccetera, questa è una delle cose principali che abbiamo svolto. Poi ovviamente a livello amatoriale abbiamo fatto moltissimi concorsi qua a Termoli io ne ho organizzato negli anni 90, ne organizzai tre, due sono stati fatti alla città di Rieti e anche in altre a Napoli, a Pistoia, a Rezzo, insomma dato che perché siamo a livello nazionale, siamo oltre 60 soci e quasi tutte le regioni sono coperte. Danilo Susi che non vive più a Termoli a gennaio lascerà la presidenza dell'AMFI, il catalogo presentato un unico filo conduttore che si ripete fin dalla nascita dell'associazione che mette in stretta correlazione la passione per la fotografia con il rapporto che si instaura tra medico e paziente. Fare informazione sanitaria ed educazione sanitaria, quindi il paziente deve essere informato. Arts medica e arts fotografica non sono mai state molto distanti, anzi direi che la frase va detta al contrario, che sono sempre state molto vicine tra di loro, abbiamo fatto tutta una spiegazione, c'è tutto un bellissimo testo riportato anche nel catalogo stesso ed è quindi che cos'è? È informare alla prevenzione, questo in senso generale, e quindi all'educazione, alle patologie mediche, però illustrate in un modo non tecnico e quindi avvicinare praticamente il paziente a un'immagine che possa essere di riferimento.